Nazionale A. Il FIGC annuncia di aver raggiunto un accordo con l'allenatore toscano. Che prenderà la posizione a partire dal 1 settembre. La presentazione ufficiale avrà luogo a Coverciano in occasione del raduno che precederà le sfide. Contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina la Federazione Italiana del Calcio Gioco annuncia di aver raggiunto l'accordo con Luciano Spalletti per l'ufficio del commissario tecnico della squadra nazionale italiana. L'allenatore toscano prenderà l'incaricò a partire dal 1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale avrà luogo occasione della manifestazione azzurri. In programma nei primi giorni di settembre. Presso il Federal Technical Center di Coverciano.